Buonasera amici da casa siamo qui al convento di Lonato oggi è un giorno particolare perché è venerdì 9 marzo ma soprattutto è un giorno particolarissimo per un nostro ospite ve lo presentiamo adesso si chiama Renzo e sta per cambiare vita permesso permesso buonasera cerchiamo proprio te ciao Renzo ciao allora io ho già anticipato ai nostri amici a casa che tu festeggi qualcosa in molto particolare giusto? Sì ok vuoi dirci qualcosa in più? Sì mi sono licenziato sono in fedele con l'ambulanza e adesso vado a lavorare in un altro paese e altro tutto e non mi sembra poco non mi sembra poco ma i tuoi amici sono scappati? Prego ragazzi prego prego siete timidi siete qua in incognito? Ecco no perché a me sembra una cosa molto molto carina questa molto divertente il fatto che tu sia venuto a festeggiare il licenziamento cioè non ci capita tutti i giorni eh no licenziamento non è che ci capita sempre no e soprattutto non ci capita che viene festeggiato sì è vero bene e vai a vivere detto in? Svizzera dove è Svizzera? S'andava conosci già il posto o è proprio un'avventura? Sì è tutta una sentenza allora noi ovviamente ti auguriamo veramente tanto successo in questo nuovo lavoro e che tu possa ambientarti bene nel nuovo posto ti mancherà qualcosa qua dell'Italia? Gli amici anche immagino perché là sono Svizzeria? mancherà tutto beh però dai speriamo speriamo veramente per il meglio speriamo comunque di rivederti qua magari quando vieni a trovare i tuoi amici che chissà magari ci racconti come poi ti trovi là e come vanno le cose bene grazie Renzo in bocca al lupo per quest'avventura grazie prego ciao ciao